Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A12 controllo della velocità attivo tra Colle Salvetti e la barriera di Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Attenzione al vento forte in A15 tra Berceto e Pontremoli. Sulla Grosseto Fano riduzione di carreggiata per Frana tra i chilometri 5 e 4 tra Alberoro e Montagnano in direzione Montagnano. In FIPILI il personale sulla strada tra la diramazione per Pisa e Pisa Aeroporto in direzione Pisa. Infine per gli aerei il volo da Parigi atteso a Firenze alle 11.15 è stato cancellato così come la sua ripartenza delle 12.05. Muoversi in Toscana Info in servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!